Nicola Lanzetta, responsabile del Mercato Italia di Enel per AffariItaliani.it. Siamo alla presentazione della seconda edizione del Master in Digital Transformation. Qual è l'importanza di questa iniziativa per Enel? L'importanza enorme. In questi anni, diciamo negli ultimi due anni, la grande sfida che Enel si è posta e sta portando con successo è quella di una trasformazione della sua maniera di fare business. Il nostro business, per certi aspetti, è abbastanza tradizionale. L'energia elettrica esiste da tanto tempo e siamo tutti abituati a utilizzarla. La sfida che abbiamo è gestirla in maniera differente. Da qui tutta una trasformazione che non riguarda solamente l'informatica, non riguarda solamente i sistemi informativi, ma riguarda il nostro approccio interno, soprattutto il nostro approccio alle confronti dei clienti, soprattutto il nostro nuovo modello di lavoro. Questo fa sì che avere in un mondo che cambia nuove professionalità è indispensabile. Detto questo, sembra quasi naturale questa partnership con il Palen Garden, il cui obiettivo, l'obiettivo del Master che oggi presentiamo, è quello di creare nuove professionalità in quest'anno. E quindi con piacere che siamo qui, ed è anche con grandi speranze che contiamo alla fine di questo percorso di entrare in contatto con persone che siano in grado, ancora più di noi, forse perché più nuovi, forse perché più giovani, di aiutare questa enorme trasformazione che si è coinvolgendo.